21esima giornata in Serie A, gara fra H e FCP, tutto è pronto, si attende soltanto il fischio di inizio ora arriva, chi l'è? due borracce borracce insani portiere, portiere da bella sbaglia tutto, attenzione Grimaldi, Grimaldi l'uscita di Nani, gli dice no, l'ex compagno Grimaldi, la recupera Enrico, Enrico punta l'area, Enrico fermato da Iorio Grimaldi calcio Grimaldi, tiro al lato di un soffio Grimaldi in anticipo subisce anche un colpo, Grimaldi ancora si appoggia due contro zero e l'appoggia in rete, Simone Ferraro, il vantaggio degli a che la sponda è ancora Ferraro, tocco di fino, Repentino riesce ad anticipare tutti, soprattutto Nani che non ci arriva ed è due a zero a che doppietta ma là dentro l'autogol sfortunatissimo, dice Iranna sul primo palo, la devia in rete ed è due a uno FC pensione Grimaldi, se lo dico c'è un po' D'Avella che gioca da terra però è solo, quindi si gioca allora, Del Gaudio, punta l'uomo Del Gaudio, non passa su Caprini Sombero e Enrico, la sponda, palla buona ancora per lui, che azione dell'FCP, Enrico non trova se ne ho proprio un belto tramonto se mi facevi da fare ti troverò devo calmare un po' devi dire, ciao Grimaldi, la piazza lui, il gol del 3 a 1, implacabile Antonio Grimaldi buona serata ciao abbiamo mangiato, non è che abbiamo mangiato uno di tutto il destro di Grimaldi ancora 4 a 1, dilaganti, gli a che ultimo minuto del primo tempo finisce qui a prima frazione di gioco punteggio sul 4 a 1 per h si riparte dal 4 a 1 degli a che contro gli fcp due gol di ferraro e due gol di grimaldi decidono a questo incontro a fronte di dell'autogollo sfortunato di ciranna che ha segnato per l'fcp grazie 4 a 1 ricordiamo fino a questo contropiede la palla ceduta ancora a ferraro iorio appoggia ma fuori attenzione arnese 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 rimane in posto parla la cena esposito la rete in apertura di secondo tempo accorcia le distanze già marco esposito 4 a 2 fcp caprini si scatta da soli avversari falla dentro iorio fallisce il tap in decisivo il destro di grimaldi nani non impeccabile è tripletta di antonio grimaldi e gol del 5 a 2 per la cedda una bella maletta per la cedda quello che si buttava in terra è quasi si 5 a 3 del gaudio e rito parla regalata a ferraro ferraro c'era grimaldi palo colpitore iorio salta l'uomo serraro l'imbucata per grimaldi nani a terra nessun problema per grimaldi segnato il gol 6 a 3 del a che tranne due il destro da fuori di davella bel tentativo dell'fcp facebook l'effetto di diretta con l'effetto di diretta ti giuro ma poi nessuno di noi nessuno di noi si era accorto che l'avesse fatto esposito non c'è fallo fallisce incredibilmente pala rubata 2 contro 2 rimanda lunga per ferraro che viene anticipato da nani iorio che salvataggio un vero scelare grimaldi la tocca per iorio solissimo passaggio per grimaldi calcio a fuori Enrico saleva la piede un cavallo Enrico attenzione punto il fondo viene fermato da iorio finisce qui la vittoria per 6 reti a 3 degli a che andiamo da grimaldi eccoci con grimaldi migliori in campo in questa gara vinta 6 a 3 l'ex di giornata Lorenzo Nani una partita comunque ben gestita da parte vostra forse non delle più combattute no è stata una partita proprio ben contro il lato come ha detto Lucia noi apriamo sempre il pallino del gioco in mano loro portavano la palla cercavano di andare in porta ma noi siamo sempre difesi in ordine siamo ripartiti velocemente come facciamo di solito e siamo riusciti a fare quindi tante cose hai evidenziato anche tu pochi tiri da parte loro anche un autobullo ha evidenziato il loro tre gol che hanno fatto diciamo comunque anche quest'oggi è un punto molto complejo in particolare ti posso chiedere allora qual è secondo te la fase del gioco in cui vi espedite al meglio? io penso che la fase migliore è quella finale perchè noi abbiamo una caratteristica di aspettare i passi e poi le partite per più quando le squadre si mettono stanchi e se non allungassi noi siamo molto forti in contro qui per più penso che potrebbero fare la fase in quest'oggi oggi è stata una partita diversa per l'alzoni abbiamo giocato su tipo fin dall'inizio abbiamo giocato forte perchè siamo venivano due pareggi di fila e vorremmo iniziare assolutamente senti l'importante è che avete trovato questi tre punti dopo una fase un po' scura diciamo questo secondo te può pregiudicare diciamo forse il pronostico che vede Yake tra le principali ambiti al titolo io penso che gli Yake siano ancora tra le probabili vincite la squadra per vincere il titolo ci sono altre squadre che sono ben attrezzate questo lo sappiamo però fino ad adesso abbiamo fatto il campionato migliore di tutti noi ci vediamo sicuramente favoriti va benissimo grazie a tutti complimenti a tutti ciao